Anche quest'anno l'Organizzazione Internazionale di Protezione Animali, OIPA, si ischierà in prima fila per tutelare gli animali, dedicando quest'anno il suo calendario e le sue argentine alle giornate internazionali in cui si celebrano diverse specie di animali. Le giornate internazionali dedicate agli animali non sono una semplice celebrazione, ma un allarme concreto, un focus su cui occorre meditare ed agire di conseguenza, affinché non si trasformino in giornate della memoria, in un ricordo di specie estinte per colpa dell'uomo. E così l'OIPA ha deciso di dedicare l'anno 2022 a queste giornate affinché si abbia sempre presente la bellezza del pianeta, la sua fragilità e l'importanza del prendersene cura. Questo è possibile farlo anche sostenendo l'OIPA che da 40 anni si dedica tutti i giorni a tanti animali in difficoltà, ordinando il calendario o una gendina. Tramite OIPA si può quindi contribuire a sostenere gli esseri indifesi con cui convivere in pace e serenità ogni giorno del prossimo anno e di tutti gli anni a venire.